Per favore! Un paio! Anche la giravamo! Diceva Carmen, non potevi prenderla a quello alto! Ma a Carmen, questo è un posto freddo, non è un posto caldo! Conosco Paola, siccome Paola si spoglia solitamente... Ho questi abitudini di perdere, quando attraverso la confine... Ah, mi ha dimenticato della microcamera che la seguirà ovunque! Vole grande fratello! Vole con sudati i capelli sta bene! Non sta bene, vero? Alizio, appena la vedi fai... No, lui non l'aveva riconosciuta! Anche io pensavo che era Licinia da lontano! Un attimo! Com'è Enzo, com'è? Pure il melone sta diventando... Di sinistra! E' un disastro! Si, ma è una minaccia che si fa? Scateneremo la piazza! Mamma mia che guaio! Io in Italo 7-8 mila colpi ce l'ho! Si! Sì! 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 Ho fatto la... Ormai... Mi è messo la preoccupazione! Si, si! Chissà perché! Ci sono i grazie! Mi sono i grazie! Mi sono i grazie! Ciao Tonino! Come stai? Stai bene? I crab fanno... Li ricopro, va! Quali sono quelli con la nutella? Li ricopro perché... Li leviamo! Li leviamo! Ma è dolce! E' alivico! Che capolaburo! Che capolaburo! Che capolaburo! Che capolaburo! Che capolaburo! Che capolaburo! Adesso salta sul grembo eh! Esci fuori! Che capolaburo! Che capolaburo! Che capolaburo! In macchina no! Nel... 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 E' una buonissima idea! Voi ci sediamo? Ma... Sì! Oh! Siedetevi su! Ciao gatta! Che stavi facendo? Hai ripreso i tentativi! Ma è una videocamera? Videocamera! Allora... Io mi metto qua... Italo! Levati! Che altri... Allora... L'apro? Ahahahah! Non è saltato! Perché ho fatto così! Aspetta! Non è! Ahahahah! Compagno! Non metti più là! Ma tu che fai qua? Eh? Che fai adesso? Compagno! Che sarebbe? know... Mi pensapado! Then... Che...